Inedito equipaggio Caffoni e Rolando al rally città di Torino. Sì dai, siamo partiti con l'idea io e Massimiliano Rolando, ovviamente era la prima gara che facciamo insieme. Siamo partiti così facendo una chiacchierata al Vara, abbiamo detto dai facciamo una gara insieme. E' stato fuori questo rally città di Torino e a tutti gli effetti ho guardato... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.